ragazzi bellissimo primo tempo dell'inter ovviamente ragazzi se mantieni il pallino del gioco il difetto è che devi avere le attaccanti che devono saper giocare in spazi molto più stretti quindi avete voluto il bel gioco avete voluto un inter padrona del campo padrona del possesso palla il risultato è che facciamo fatica in spazi molto più stretti però ragazzi ovviamente siamo stati sfortunatisi bravura del loro portiere che al debutto in serie A hanno trovato il nuovo Buffon e va bene va bene così spero che nel secondo tempo si riesca a sbloccare perché nessuno ha demeritato anche Sensi che ha iniziato i primi minuti in punta di piedi è stato piacevole e gradevole da vedere e niente ragazzi secondo tempo entra la Toro Martinez e cambia la partita ok facciamo questo piccolo pronostico ci vediamo a fine partita speriamo con un sorriso e con una fame grande come una casa iscrivetevi al canale attivate la campanella massimo rispetto per Gianna Angolan nessun rispetto per Diego Godin ciao